Guido Guidesi, Enrico Letta ha detto che ha tagliato le tasse, è vero? Enrico Letta, sono sei mesi che dice cose che non sono comprovate nei fatti. Oggi, dopo il decreto sull'abolizione dell'Imu, ci troviamo un'altra imposta sulla casa, un'imposta che sarà maggiore rispetto all'Imu, per cui il governo Letta, ancora una volta, ha dimostrato di aver aumentato le tasse, e conferma quello che, in continuità con il governo Monti, quello che è sempre fatto da quando è stato insediato, cioè aumentare le tasse e non tagliare le spese. Che cosa ne pensa di questa TIRES, guardando solo le indiscrezioni che arrivano da Palazzo Chigi? Ma oggi sono solo indiscrezioni, bisognerebbe vedere realmente come è nei fatti, come è contestualizzata, che tipo poi dopo di rapporto ha questa nuova tassa con gli enti locali, per cui con i comuni, ma soprattutto le indiscrezioni che vediamo oggi sono quelle che, lo confermiamo, la nuova tassa supererà sicuramente l'Imu.